Oggi vediamo la strategia di farming definitiva, ovvero come mettere a rendita il proprio capitale con la DeFi in tutte le condizioni di mercato, che sia bull market o che sia bear market. Ultimamente possiamo dire che il mercato non è particolarmente vigoroso e quindi ho deciso di presentarvi anche le variazioni che una strategia intelligente di farming secondo me dovrebbe apportare in una situazione in cui è bene abbassare il livello di rischio, prendere alcune precauzioni e pensare in maniera lungimirante al prossimo ciclo di mercato posizionandosi appunto adeguatamente. Nel video di oggi che vuole essere l'ottava puntata del nostro corso di DeFi arriviamo a quelli che sono gli argomenti finali, quindi mettiamo in pratica tutto ciò che abbiamo imparato fino ad ora per mettere a rendita i nostri asset che è la cosa che immagino tutti voi vorrete fare con la DeFi ed è il motivo per cui avete intrapreso questo percorso. Oggi con l'aiuto di alcune slide vediamo proprio come impostare da zero una strategia di farming, una strategia di rendita che tiene conto di tutti i fattori di cui bisogna avere considerazione affinché tale strategia sia efficace sul lungo termine. Basta chiacchiere, seguitemi perché avremo un bel po' di cose da dirci e credo che stavolta vi interesserà più del solito perché andiamo a mettere mano sugli asset. Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Oggi che bello mettiamo in pratica tutte le cose che abbiamo visto finora in una strategia concreta. Non riesco a immaginarmi appunto niente di meglio per andare a coronare questo percorso. Iniziamo quindi a vedere come si imposta una strategia di farming che io chiamo evergreen che va bene sempre a prova di bear market. Il bear market è da vedere anche come un'opportunità perché si riesce ad accumulare, si riesce ad aprire posizioni, ad acquisire posizioni di asset allocation su quegli asset, quei token che magari abbiamo sempre visto come estesi ma ci sarebbe piaciuto detenere. E quindi adesso che abbiamo uno strumento in più che prima non avevamo che è quello della DeFi e delle rendite che possiamo ottenere anche durante un bear market, caspita abbiamo diverse metodologie per andare a costruire gradualmente posizioni anche a rischio zero ulteriore cioè senza dover andare a immettere nuovo capitale ma utilizzare quello che già abbiamo mettendolo a rendita e quindi appunto andando ad accumulare una piccola posizione. Non vi voglio spoilerare troppo perché ci arriviamo un po' alla volta, partiamo dalla tipica panoramica del cosa approfondiremo oggi per tenere la struttura solita dei nostri corsi. Oggi andremo a vedere una strategia di allocazione e rendita sul capitale utilizzando la DeFi, una strategia completa a rischio variabile in base alle fasi di mercato. Quindi non sarà una strategia statica, sarà una strategia che si adatta alla situazione perché qualsiasi strategia completa e furba deve tenere conto delle condizioni al contorno. Quindi siamo in una fase rialzista del mercato? Ci comporteremo in un certo modo perché la tolleranza al rischio sarà di un certo tipo. Siamo in una fase ribassista? Cambia tutto, cambiano gli APY, cambia la tolleranza al rischio e cambia il comportamento che noi dobbiamo avere. Questo comporta una gestione attiva del portafoglio. Quindi non è corretto dire bene io allocco capitale sulla DeFi e non ci penserò mai più. Bisogna essere attivi, bisogna adattarsi alle condizioni e bisogna ottimizzare la propria allocazione ed esposizione. Il focus di un approccio di questo tipo è sul medio e lungo termine. Non è una strategia estremamente speculativa, quindi non aspettatevi gli APY del 500.000% e saltare da una piattaforma all'altra ogni settimana, ma è una strategia omnicomprensiva che tiene conto un po' di tutto, anche del gambling in realtà. Però cercando di guardarlo dall'alto, di non perdersi nel breve e nel brevissimo, ma di avere una panoramica sulla situazione di medio e lungo termine. Perché ormai lo dovremmo aver imparato, questo è l'unico modo di sopravvivere in questa giungla. Chi ha un orizzonte temporale troppo troncato, troppo di breve, tendenzialmente non dura a lungo. Ok? Questo è importante capirlo. Quindi, fatte queste premesse, partiamo con la comprensione dell'allocazione del capitale. Perché stiamo parlando di allocazione di capitale? Perché una strategia di farming è basata su questo. Quindi, io, qual è l'obiettivo che ho nel farming? Non è che deposito a caso gli asset che ho sulle varie piattaforme e, boh, rendono bene, sono contento, non so neanche bene cosa farmene, ma io farmo. No, questo è sbagliato. Occorre un obiettivo e questo obiettivo non può prescindere dall'allocazione del capitale. Quindi capire che cosa voglio io nel mio portafoglio. Ho diviso gli asset in tre macro-categorie, per non fare troppa confusione. La categoria Apex, ovvero quegli asset che per me hanno enorme valore intrinseco. Per qualcuno è solo Bitcoin. Per qualcuno può essere Bitcoin ed Ethereum. Tendenzialmente è da restringere il più possibile in quanto a quantità di asset, questa categoria. Perché sono gli asset che vanno a costituire la stragrande maggioranza del mio portafoglio. Non ha nessun tipo di senso mettere all'interno degli asset Apex 50 altcoin diverse. Perché si perde proprio il senso. L'Apex è la colonna portante del mio portafoglio. Quell'asset, quegli asset che vado ad accumulare sempre con il mio pack mensile. Quindi quando facciamo i video sull'asset allocation abbiamo la distribuzione del portafoglio principalmente sugli asset di tipo Apex. Poi abbiamo una fettina sopra l'Apex. Fettina perché in termini di volumi, di percentuali, tendenzialmente è sempre minore. Cioè deve essere minore altrimenti il portafoglio è sbilanciato. E io l'ho chiamato Spec, visto che ormai è tradizione chiamarlo così. Che sta per speculativi. Speculativo, attenzione, non vuol dire la shitcoin di turno o doge o la memecoin o robe del genere. Perché quello fa parte della categoria ancora sopra che è il gambling. Ma qui stiamo parlando di quegli asset che voglio accumulare in bear market per andare eventualmente poi a ridurre la posizione nel ciclo successivo ma perché mi baso sull'analisi fondamentale. Vi faccio degli esempi concreti. Io ultimamente ho parlato di Curve, Convex, Tockemach come asset molto allettanti. Phantom può esserne un altro, Solana può essere un altro. Perché fan parte della categoria speculativa? Perché comunque hanno una certa volatilità. Sono ancora meno maturi ad esempio di Bitcoin ed Ethereum che sono le colonne portanti. Facciamo questo paragone. Da una parte abbiamo Bitcoin ed Ethereum. Anni di storico, anni di smart contract funzionanti e tutto quanto. Dall'altra magari abbiamo delle nuove chain che stanno facendo ottimi risultati ma sono più nuove, sono più volatili. E c'è una maggior componente speculativa. Non sono shitcoin perché non stiamo parlando della gemma numero 5400 di rank su CoinMarketCap. Stiamo parlando di coin che hanno un elevato valore fondamentale. Ripeto, l'esempio può essere Phantom, Avalanche, Curve, Convex, Tockemach. Tutte quelle coin lì che abbiamo studiato, abbiamo capito e abbiamo capito che hanno valore ma sono estese tendenzialmente nelle fasi di bull market. E quindi passa un po' la voglia di andarle ad accumulare. Questa è la situazione tipica, no? Durante i bull market, di solito, soprattutto se sono in trend, vedi Phantom, Harmony e altre in questi periodi, non è che uno dice, bene, io non le guardo neanche, non valgono niente. No, è sbagliato perché comunque il valore intrinseco c'è. Tuttavia sono esageratamente estese, quindi viene un po' meno voglia di andare a prendere posizione. L'estensione è data proprio dalla componente speculativa. La componente speculativa su un asset ad elevato valore fondamentale spesso fa sì che il prezzo e la sua volatilità prevalgano sul valore intrinseco. E quindi molto spesso il prezzo è esageratamente esteso. E quindi se uno prendesse posizione in una fase di questo tipo, poi le vedrebbe dampare, perché comunque le coin che estendono, a prescindere dal fatto che siano buone o meno buone come valore fondamentale, prima o poi ritracciano, e va a finire che uno si trova appunto in perdita, in drawdown notevoli e comunque con una coin di buon valore fondamentale. Uno dice, ma cioè, come mai? Ho sbagliato qualcosa? Sì, l'errore è stato l'allocazione e l'esposizione a uno specifico prezzo. Questa adesso non vuole essere una lezione di asset allocation, che sì, è una parte importante, ma non è il cuore di questo corso, di questa puntata, ma è un preambolo fondamentale per capire poi come approcciare questa piramide con il farming. Perché, chi è lungimirante l'avrà già capito, questa fetta spec sarà proprio la fetta più interessante nella quale riversare il capitale che si farma in certe specifiche fasi di mercato. Quindi, tenetevelo a mente, asset speculativi significa che hanno valore fondamentale, quindi non sono speculativi fine a se stessi, ma spesso estendono un po' troppo nelle fasi di bull market e questo mi disincentiva a considerarli nell'allocazione, soprattutto se magari li ho appena scoperti. Infine, abbiamo la punta della piramide, l'immancabile gambling, altissimo rischio, Wonderland, Redacted, Olympus DAO, magari qualche piattaforma folle, qualche coin folle, insomma, il gambling, no? Che va minimizzato, sono i classici cippini. Qui bisogna non farsi prendere la mano, ne abbiamo già parlato, nell'asset allocation va tenuto, per dire un numero sotto l'1% del proprio portafoglio, del tipo, se lo perdo, amen, come fosse un trade, se va bene, va molto bene. Anche qui c'è da fare la propria ricerca, quindi non scegliere coin a casaccio, ma studiare analisi fondamentale, trovare quelle situazioni di asimmetria, tra rischio e rendimento favorevoli. Ne abbiamo già parlato nell'asset allocation, quindi non vi stresso troppo con questi concetti, che altrimenti sono ripetuti. Adesso andiamo avanti, ora che abbiamo chiara questa suddivisione tra le tre classi di asset, andiamo avanti e vediamo come comportarci, vediamo degli esempi di strategia finalizzati proprio a ottenere delle esposizioni in questi asset. Partiamo da... No, in realtà non è vero, non ancora, perché l'allocazione non è finita, stavo dimenticando una parte importantissima. Oltre agli asset abbiamo le stable coin. Le stable coin sono importantissime per una ragione, perché generano cash flow. Le stable coin noi le possiamo mettere a rendita e sono quelle che tendenzialmente rendono di più e inoltre ci schermano dalla volatilità. Quindi sono dell'attivo di fatto, perché generano cash flow grazie alla DeFi e questo cash flow poi lo posso indirizzare in altri asset. Quindi è un'entrata immune dalla volatilità, i rischi li conosciamo, in base a dove la facciamo rendere, anche questo dovremmo averlo conosciuto nelle puntate precedenti, quindi c'è l'imbarazzo della scelta. Il cuscinetto stable coin per questa ragione è importante da quantificare nella propria asset allocation in fase proprio di progettazione del portafoglio. Io ho il 50%, qualcun altro magari può volere il 70%, qualcuno il 20%, dipende dalla volatilità desiderata complessiva. Però sappiate che le stable coin, fortunatamente, grazie alla DeFi, sono diventate un'attività e non più liquidità fine a se stessa. L'ultimissima cosa dell'allocazione, poi andiamo a vedere davvero le strategie, stavolta non scherzo, e il ribilanciamento. Il ribilanciamento significa riportare il portafoglio in condizione target, quindi nella nostra fotografia iniziale, se volevamo ad esempio, che ne so, 70, 20, 10 di tre asset, la riportiamo lì e ogni qualvolta andiamo ad applicare appunto il ribilanciamento stesso. La domanda è, lo applico o non lo applico? A voi l'ardua sentenza, tra poco vediamo degli esempi concreti nell'applicazione delle strategie e in seconda battuta, se applicarlo totalmente, quindi a tutti gli asset o parzialmente. Esempio, lascio fuori la parte speculativa dal ribilanciamento, perché ho il mio piano, e lì dipende dalla situazione e anche questo tra poco lo vedremo in base alla condizione, soprattutto del mercato. Bene, ora siamo davvero pronti a guardare le prime strategie, quindi partiamo da una strategia di base. La base del farming cosa dice? Dice che il mio obiettivo dovrebbe essere accumulare gli asset Apex, perché gli asset Apex per me sono il massimo del valore intrinseco che si può voler detenere in portafoglio. Quindi, io gli stessi asset Apex li posso utilizzare come collaterale, lo abbiamo visto quando abbiamo parlato di lending e borrowing, ci sono diverse piattaforme che mi permettono di borroware contro Ethereum, borroware contro Bitcoin, borroware stablecoin in particolare. Qui bisogna farsi due conti, perché bisogna calcolare quanto mi costa il borrow e quanto mi rende mettere a rendita quelle stablecoin che prendo in prestito. Devo utilizzare quindi le piattaforme combinandole in maniera sensata, minimizzando il rischio e massimizzando il potenziale rendimento. E qui ci vengono utili le scorse puntate, in particolare quella sui money market, sul lending e borrowing, e poi quella su, ad esempio, gli aggregatori. Non lo so, ultimamente su Phantom ci sono delle interessanti rendite per le stablecoin. Li abbiamo viste tutte, un po' alla volta, nelle scorse puntate. Importantissimo anche gestire bene la componente di debito, altra cosa che abbiamo visto a dovere. Perché? Perché il loan to value del borrow che vado a fare contro i miei asset Apex non deve mai portarmi a liquidazione, perché altrimenti vado a farmi del male, vado a buttare via i miei asset Apex, anziché farli rendere. Ok? Quindi mi raccomando, loan to value bassi, 20-30%, più 20 che 30, soprattutto se siamo in fase ribassista, perché non deve avvenire la liquidazione. riguardatevi bene la puntata sui money market, sul lending e borrowing per capire questi concetti e come evitare la liquidazione. Una volta che faccio questo, utilizzo il, appunto, il collaterale, come collaterale, gli asset Apex, borrow stablecoin, farmo, e faccio farm and dump. Non è che detengo i token che mi vengono dati in liquidity mining e li tengo lì a fare chissà che cosa. No, li dumpo, perché io voglio convertirli periodicamente nei miei asset Apex. Voglio quelli, non voglio altra roba a caso. Quindi, se farmerò su VWS, damperò continuamente, una volta a settimana, ogni due settimane, quello che è, VWS per convertirlo in BTC, ETH, eccetera, lo stesso su qualsiasi altra piattaforma. Quindi io non voglio detenere nel mio bilancio, nella mia allocazione, altri asset al di fuori degli Apex. Le stablecoin fanno la stessa fine, cioè vengono impiegate come attivo per farmare e dampare eventuali token da mettere in asset Apex. Se abbiamo una rendita nativa pagata in stablecoin, io periodicamente ribilancerò una volta al mese, ad esempio, per andare a portare quella rendita che ho ottenuto in stablecoin, che magari mi hanno portato dal 50 al 51% l'allocazione in stablecoin, la rigiro negli asset Apex. La vado a ridiriggere lì al fine di rimanere con la mia fotografia iniziale. Quindi questa è una strategia di base, semplicissima, alla portata di tutti, che contiene stablecoin e asset Apex. Entrambi vengono messi a rendita con lo scopo di accumulare altri asset Apex. Punto. Perché tanto quelli io li voglio, a prescindere dalla condizione del mercato, io ne voglio sempre di più perché ci vedo valore, gestisco le fluttuazioni con il ribilanciamento e non ho particolari variabili, proprio perché ho selezionato gli asset con estrema cura. La volatilità sarà contenuta e quindi non ci sono particolari complicazioni. Questa è una strategia basic. Andiamo invece a una strategia un pelo più complicata che prevede anche la componente speculativa di gambling. Questa è da suddividere per forza di cose in due diversi approcci, due diversi comportamenti in base alla fase del mercato in cui ci troviamo. In particolare avremo una fase on risk nella fase bullish del mercato e una fase off risk nella fase più bearish. nella fase bullish on risk perché tendenzialmente quando il mercato cresce e cresce un po' tutto ci si può permettere di spingere un po' di più con il rischio perché è più difficile che ci siano dei dump improvvisi è più difficile che accadano scenari spiacevoli gli APY sono più alti le piattaforme diciamo fruttano di più e ci si può permettere anche di fare un po' di gambling no? perché nel gambling c'è molta più probabilità che vada bene rispetto che vada male perché è una fase bullish è una fase on risk quindi questa fase prevede sempre gli asset Apex che vengono collateralizzati per borroware stable coin e potrò permettermi anche un loan to value un attimino più spinto senza attenzione avvicinarsi comunque alla liquidazione e le stable coin che vado a borroware contro i miei asset Apex faccio sempre farm and dump e converto la mia rendita in altri asset Apex e anche asset speculativi quindi in sostanza avrò anche la mia fettina speculativa avrò la mia fettina dedicata al gambling preallocata che vediamo tra poco ma di fatto io vado a farmare e quello che farmò lo vado a distribuire in tutto il mio portafoglio ok? quindi non più soltanto negli asset Apex ma anche in quelli speculativi stable coin uguale farm and dump asset Apex più asset speculativi gli asset speculativi sono inclusi nel ribilanciamento perché di fatto fanno parte del mio portafoglio quindi io vado a farmare con le stable con gli asset Apex eccetera e ridistribuisco periodicamente il farmato tra Apex e spec quelli sono i miei due comparti da far crescere ok? con la rendita infine abbiamo il cipino nel gambling che può essere una coin che secondo me ha un sacco di potenziale che è appena nata può essere un launchpad una IEO eccetera l'importante è che ho fatto la mia ricerca che vedo asimmetria tra rischio e rendimento visto che siamo in una fase on risk le probabilità che vada bene ripeto sono maggiori rispetto a quelle che vada male a meno che non ho preso il bel progetto tutto italiano di turno che allora quella lì è una shitcoin ma il discorso cambia il gambling va fatto con cognizione l'ho chiamato gambling solo per un tema di rischio ma deve esserci un minimo di ricerca questo è escluso dal ribilanciamento perché comunque non ha senso includerlo ci sono volatilità pazzesche e soprattutto è un po' un tutto a niente è come se fosse un trade ne abbiamo parlato nell'ultima asset allocation quindi quello che farmo non lo vado a mettere qui al contrario semmai se il gambling è una piattaforma di quelle con APY altissimi periodicamente quello che farmo da qui lo vado a distribuire altrove per andare a diciamo diluire un po' il rischio della mia posizione soprattutto per far fruttare poi anche il gamble stesso visto che ci sono queste nuove categorie di piattaforme di gambling vedi wonderland e simili adesso wonderland non più perché ha finito il discorso dei rebase eccetera ma questo l'esempio di questo ciclo è stato proprio le rebase coin e di fatto andare a utilizzare i proventi periodicamente per alimentare gli altri comparti ha un'ottima strategia per fare una sorta di DCA out per uscire un po' alla volta diminuire neanche troppo l'esposizione al gambling perché comunque con il rebase c'è sempre un'esposizione in crescita e preservare gli eventuali guadagni che durante i bull market tendenzialmente funzionano queste piattaforme di gambling smettono di funzionare o comunque funzionano molto peggio quando siamo in una fase invece dove si tende ad essere offrischi in una fase più conservativa più di mercato incerto allora lì è il caso di comportarsi diversamente ma lo vedremo tra poco quindi questa è un po' la fotografia della situazione del comportamento giusto da avere di cui comportarsi in una fase on risk in una fase bullish poi andiamo avanti e vediamo invece il suo altro lato della medaglia quindi la fase bearish fase off risk cosa succede? succede che siamo in una condizione di mercato ribassista o incerto c'è tensione e pertanto una situazione di tensione è nemica del gambling perché? perché il gambling in bear market performa male quante volte le piattaforme ad alto rischio le coin ad alto rischio sono andate bene in una fase bearish? mai quasi mai quindi la simmetria diventa opposta il rischio va a sovrastare il rendimento e quindi conviene escluderla dalla propria strategia se si ha una posizione la si comincia a chiudere adesso tra poco vediamo come andare a identificare lo switch tra bull e bear market ma di fatto devo andare verso una situazione di questo tipo abbiamo apex e spec apex che è il nostro evergreen e funziona sempre spec è la parte speculativa ma vi ricordo speculativa significa comunque con dei fondamentali forti ma componente di volatilità importante nella situazione di bear market la punta spec io mi aspetto che vada a dampare abbastanza in maniera marcata proprio perché è spec altrimenti non lo sarebbe magari bitcoin dampa del 30% l'altcoin di turno phantom di turno layer 1 layer 2 token curve convex eccetera magari dampano del 50 del 60 ma non perché non valgono più niente improvvisamente i fondamentali ci sono sempre è che c'è la componente speculativa esageratamente presente quindi vanno a dampare di più quello che io faccio consapevole del fatto che ci stiamo spostando da una situazione in cui c'è euforia esagerata e di conseguenza una sopravvalutazione folle dell'asset ci stiamo spostando verso una situazione opposta dove c'è una fase di disconforto paura e di conseguenza una sottovalutazione dell'asset e io voglio agire proprio lì come faccio ad agire direzionando il flusso di farming su spec quindi avrò le mie stable coin i miei asset apex ci borrò o contro le stable coin le uso e ciò che farmo lo vado a canalizzare soprattutto sulla punta spec che escludo dal ribilanciamento perché altrimenti mi andrebbe andrebbe a diluirsi in continuazione e poi quando la musica cambia e ritorniamo nel ciclo successivo di bull market reincludo spec nel ribilanciamento così vado a realizzare una parte di profitti tengo comunque la mia il mio comparto spec perché lo voglio a prescindere è una parte del portafoglio che mi interessa perché io credo in quelle coin e mi riporto in una situazione di questo tipo dove lo spec è incluso nel ribilanciamento e poi eventualmente appunto sempre in fase on risk quando torniamo in fase on risk andrò a valutare di nuovo un eventuale cipino da cacciare nel gambling questi un po' sono i due cicli da alternare on risk off risk bull market bear market la differenza è esposizione o meno sul gambling molto poco conveniente nel bear market perché si va off risk e performa male e la simmetria è sfavorevole positiva nel bull market perché la simmetria è favorevole c'è euforia tutto cresce quindi è più probabile che vada bene rispetto che vada male la parte spec è sempre fondamentalmente valida in una situazione sovrapprezzata nell'altra sottoprezzata quindi qui io la andrò a includere nel ribilanciamento gestendo la dovere seguendosi il trend mandando poi a fare profitti di volta in volta in questa situazione andrò a fare un farm to accumulate andrò a utilizzare il mio utile del farming l'attivo che mi viene dato dal resto degli asset per incrementare la posizione spec che poi nel successivo ciclo andrò a rincludere nel ribilanciamento per distribuire l'utile e il profitto anche altrove perché l'obiettivo poi è crescere il mio portafoglio quindi l'ultima domanda da porsi ma quando è che siamo in bear market cioè come faccio a capirlo perché non è che fosse così facile da capire uno dice bene da oggi siamo in bear market tac cambio strategia saremo tutti ricchi ovviamente non è così non è che da un giorno all'altro hai un segnale che ti dice da oggi siamo in bear market da oggi non ci siamo più le condizioni che suggeriscono una probabilità maggiore di bear market sono lower highs lower lows su time frame almeno giornaliero settimanale ok poi strutture compromesse quindi dei range rotti a ribasso e quant'altro anche qui direi time frame almeno settimanale perché altrimenti continuiamo a saltare da una condizione all'altra anche nel primo punto direi time frame settimanale giornaliero forse è troppo rapido non vuol dire nuovi minimi quindi non è che devo aspettare che facciamo nuovi minimi per andare a switchare a bear market ok bear market può voler dire se sul settimanale appunto faccio un massimo e un minimo decrescenti allora cambio il mio approccio un mantra una cosa sempre vera che non so quanto durerà perché se lo sapessi anche qua sarei ricchissimo e quindi devo adattarmi e rimanere tendenzialmente la cosa migliore da fare nel dubbio rimanerò off risk perché è una strategia quella off risk che vale sempre quella off risk diciamo che vale in condizioni particolari quindi nel dubbio off risk così vado a accumulare i miei asset Apex e così via e mi concentro su quello e questa questa strategia duplice di doppia medaglia che abbiamo visto poco fa può essere un'alternativa al trading puro e alle coperture quindi le coperture short le opzioni abbiamo adesso questo strumento nuovo per affrontare un bear market che è il il farming l'ottenere utile dalle stable coin il comparto non volatile rende anche quello e proprio quella rendita la posso andare a impiegare per accumulare asset sottoprezzati con valore fondamentale e questo secondo me è un modo intelligente per sfruttare un bear market non so cosa ne pensate voi vi chiedo come sempre il vostro feedback il vostro e la vostra opinione lasciatemela nei commenti così ne discutiamo le slide sono scaricabili gratuitamente dal link in descrizione io vi lascio qui così vi faccio un caro saluto e alla prossima